Il Giovedì Santo per il villaggio del ragazzo e diciamo anche tutte le realtà collegate al villaggio è un momento importante. Dopo due anni che le persone non si incontravano più, questa mattina a Belpiano abbiamo avuto un momento per sostare sul tema della cura, partendo dalla cura di noi stessi, il lasciarci amare con tutte le fatiche che ne conseguono, la cura dei colleghi e ho pensato che prendersi cura dei colleghi vuol dire creare una comunità educante a partire dalle realtà anche più semplici, più quotidiane e poi la cura dei ragazzi, una cura che ho sperimentato come veramente personalizzata nei confronti di ciascuno, delle fatiche di ciascuno, delle storie di ciascuno ed è stata un'occasione per me anche per dire che in questo primo anno al villaggio ho imparato tanto.